Allora, io principalmente parlerò del mio stile di leadership che è aggregativo, nel senso cerco di fare in modo che le persone si sentano partecipi di quello che fanno all'interno dell'azienda perché credo che possano portare valore, ma soprattutto perché nel momento in cui ti senti appartenente all'azienda per cui lavori riesci ad andare anche oltre alle difficoltà, perché in questo contesto sempre più complesso e dinamico io devo avere delle persone motivate, secondo me lo sono nel momento in cui sposano comunque la missione dell'azienda. Di cosa ti occupi? Allora, l'azienda si occupa di progettazione, costruzione, stampi e stampaggio tecnopolimeri conto terzi per vari settori e io mi occupo, mi sono sempre occupata principalmente delle risorse umane, anche se all'interno dell'azienda ho fatto la gavetta, quindi sono partita dal centralino, amministrazione, commerciale, eccetera. Pur avendo estrazione tecnica io sto cercando di trovare il mio stile di gestione, che appunto è questo partecipativo, quindi ho pensato, ok, io ho queste caratteristiche, che tipo di strategia alternativa posso adottare per raggiungere il mio obiettivo, visto che non sono mio padre che invece ha un'estrazione principalmente tecnica, è proprio quella di riuscire a valorizzare le persone che io ho all'interno dell'azienda. Grazie a tutti!